yuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui per aprire il nuovo structure deck dei dark world so di essere un po in ritardo che ci sono 6.000 opening sul canale però nel senso la consegna ha tardato eccomi qua vi ricordo come sempre che se volete acquistare questo prodotto trovate il link del mio sponsor magic corner qua sotto in descrizione inoltre se vi volete liberare di carte di pokemon magic e yuki vi lascio il link del mio instagram qua sotto in descrizione seguitemi scrivetemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante ritiro praticamente di tutto detto questo andiamo a vedere cosa c'è effettivamente dentro e se vale la pena o meno acquistarlo allora andiamo subito con l'unboxing poi ragazzi vi ricordo che venerdì uscirà la decklist con i tre structure deck lista abbastanza economica un po per tutti e niente basta ventriamolo bene andiamo a vedere un po il play mat che forse potrebbe essere anche relativamente figo ci sta bellino non mi dispiace lor dietro assolutamente no anzi vi dice qualche carta da poter aggiungere se volete potenziare il mazzo e secondo me questa è una di quelle carte che in primis dovreste prendere è uscita da double è salita un po di prezzo però dovreste trovarla sui 10 12 euro più spedizione ovviamente allora andiamo con l'opening e andiamo a vedere le carte nuove come prima carta abbiamo rainbow sovrano del mondo scuro l'effetto dice puoi evocare specialmente questa carta dal tuo cimitero facendo ritornare un mostro mondo scuro di livello 7 o inferiore che controlli nella mano se questa carta viene scartata al cimitero dall'effetto di una carta puoi aggiungere un mostro mondo scuro di livello 5 o superiore dal deck alla mano eccetto vabbè se stesso poi se questa carta è stata scartata alla tua mano al cimitero dall'effetto di una carta all'avversario cosa che è facile che avvenga puoi evocare specialmente un mostro mondo scuro di livello 4 o inferiore dal deck o cimitero su qualsiasi terreno considerate che più o meno è un grafa potenziato fondamentalmente poi abbiamo marionettista del mondo scuro questa carta dice scegli come bersaglio fino a tre carte in qualsiasi cimitero bandiscile poi scarta un mostro demone durante la tua mind phase eccetto nel turno in cui questa carta è mandata al cimitero puoi bandire questa carta dal tuo cimitero e scegliere come bersaglio uno dei tuoi mostri banditi aggiungilo alla mano posso attivarne una per turno diciamo sì carina non è a mio parere la carta più forte da poter giocare fondamentalmente poi abbiamo quest'altra che diciamo è relativamente grossa si chiama archivi del mondo scuro durante la tua mind phase puoi scartare un mostro mondo scuro e se lo fai i mostri mondo scuro che controlli attualmente guadagnano attacco pari a livello del mostro scartato per cento se il mostro il cui tipo originale è demone viene scartato dalla mano dall'effetto una carta mondo scuro quindi praticamente il primo effetto anche durante la damage step posso scartare una carta e pescarne due quindi praticamente attivate questa scartate la carta mondo scuro per potenziare i vostri mostri quindi avete scartato un mostro mondo scuro scartando un'altra carta vi fate un più due più che altro perché anche le carte che avreste scartato triggereranno e avranno i loro effetti poi abbiamo la fusione che ragazzi è veramente grossa ho visto giocarla anche in tier quindi capite che se la gioca lui è veramente forte si fa con grafa signore del mondo scuro più un mostro scurità ovviamente tier la tirerà con re delle paludi ovviamente non con grafa l'effetto dice quando il tuo avversario attiva l'effetto di un mostro o una carta magia e trappola normale questa è una limitazione un po' grossa secondo me se fosse stata per qualsiasi magia e per qualsiasi trappola sarebbe stata enorme mentre tu hai una più carta nella tua mano effetto rapido può attivare questo effetto l'effetto attivato diventa il tuo avversario scarta una carta quindi praticamente come abbiamo visto prima con beaux la possibilità di essere scartato è altissima ovviamente può utilizzare questo effetto una volta per turno poi se questa carta evocata tramite fusione sotto il controllo del proprietario lascia il terreno posso evocare specialmente un grafa che è bandito nel mio cimitero poi ogni giocatore scarta una carta quindi capite che è veramente grossa fate anche un meno uno all'avversario poi come altra carta abbiamo la carta magia fusione che è enorme è pure rapida allora durante la main phase evoca tramite fusione un mostro fusione demon dall'extra deck bandendo i materiali dal terreno cimitero se stai evocando tramite fusione un mostro mondo scuro puoi anche scartare i materiali invece di bandirli quindi praticamente vi triggereranno tutti gli effetti poi durante la tua main phase se questa carta è nel tuo cimitero puoi aggiungere questa carta alla tua mano puoi scartare un mostro mondo scuro ovviamente puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno passiamo adesso alla prossima carta che è genta uomo del cancello del mondo scuro l'effetto di questa carta dice puoi evocare specialmente genta una sola volta per turno puoi scartare questa carta al cimitero aggiungi una carta magia portali del mondo scuro quindi praticamente il sercino per la terreno poi se questa carta viene bandita e tu controlli una carta mondo scuro puoi evocare specialmente questa carta quindi capite che evocarla più volte per turno poteva essere un problema perché sennò iniziavi a fare loop e non ne uscivi più prossima carta abbiamo l'altro mostro che è parla eremita del mondo scuro se questa carta viene scartata al cimitero dall'effetto di una carta posso scegliere come bersaglio un mostro mondo scuro nel tuo cimitero eccetto questa carta evocalo specialmente su qualsiasi terreno poi se questa carta è stata scartata la tua mano al cimitero dall'effetto di una carta all'avversario puoi evocare specialmente su qualsiasi terreno uno dei tuoi mostri demone che sono stati banditi o nella tua mano o cimitero puoi utilizzare l'effetto di parla una sola volta per turno interessante anche questa come carta come re bornino considerando poi che evochi sul terreno dell'avversario e parte gli effetti che fanno scartare carta all'avversario quindi farebbero scartare carta a te e triggererebbero andiamo avanti con l'ultimo supporto che è punizione del mondo scuro questa carta dice che quando uno più mostri stanno per essere evocati normalmente o specialmente puoi annullare l'evocazione e se lo fai distruggi quel mostro poi scarta un mostro devo poi se uno più mostri in mondo scuro che controlli stanno per essere distrutti in battaglia o dall'effetto di una carta all'avversario puoi invece bandire questa carta al tuo cimitero puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno come carta non è niente male l'unica cosa è che c'è scritto che nega l'evocazione e distrugge quel distrugge non mi convince l'unica cosa è che se rendeva proprio immuni da tutto era un pochino meglio perché nel senso le carte adesso possono essere anche rimbalzate rimosse quindi solo a distruzione ci fai poco allora andiamo avanti così ci vediamo anche le carte che hanno reprintato abbiamo hoverlord the dark world lucent latinum che sono tutte carte vecchie gold silva che anche questo non è male poi abbiamo baron che ok beige brown scar che ok però diciamo che non sono questi quelli che ci interessano poi abbiamo gran ceruli vabbè pure il mostro normal permetteceli tutti poi abbiamo la roba danger abbiamo bigfoot che non è male poi abbiamo thunderbird mothman su chinoco che finalmente non aveva aveva solo una reprint da mp20 quindi nel senso anche la ultra vi costava 15 20 euro prima poi abbiamo lilith fabled absolute king backjack affari del mondo scuro charge into the dark world gate of the dark world cancello del mondo scuro poi se non ricordo male questo è fulmine del mondo scuro questa non me la ricordo è trascinato dalla tomba distruggi carte che ragazzi sono stato convinto per una vita cioè negli ultimi anni che fosse ancora bandita poi the force della forza dell'oscurità tipo poi the dark world banishing fumo nero mine crash che anche questa è un'ottima reprint virus devasta decca anche questa è ottima dinomiscus ottima carta reprintata poi abbiamo skill drain buona ma l'avevano reprintata anche ultimamente se non sbaglio in mama quindi che senso c'ha metterla qua dentro vabbè che ci sta bene però allora non metterla in mama poi abbiamo grafa finalmente per un momento ho avuto un leggero dubbio sul fatto che non ci fosse poi abbiamo snow anche questa ottima carta poi cancello del mondo scuro ottima carta come abbiamo visto prima che è serciabile e poi pubblicità random che la konami si diverte a mettere sempre dentro allora ragazzi voglio fare un attimo un paio di considerazioni perché il prodotto ci sta mi piace è un mazzo buono e funzionale l'unica cosa che ha alcune pecche nel senso non ci sono alcune carte che secondo me erano fondamentali da mettere quello che pecca il reparto danger che non è completo nel senso manca chupacabra manca giacalope manca nessi cioè sono carte molto importanti soprattutto perché si giocano attualmente nessi si aggira sui 7 euro l'uno giacalope sui 5 chupacabra 2 euro comune nel senso sono prezzi troppo alti per un mazzo che alla fine non è meta ma una cosa divertente da giocare senza poi contare l'extra che alla fine anche quello dovete giocare tra cui scandalista del mondo sotterraneo che è uscita in double e che da un paio d'euro è salita a una cosa come 12 elixis re allenatore giga distruttore che è un rank 8 uscito solo da num e da ots che attualmente la sua versione common sta sui 5 euro capite che è veramente troppo ovviamente non sto dicendo che questa roba d'extra doveva essere presente all'interno dello strutturo a parte il rank 8 che se gli davano una reprintata ci stava anche ma almeno tutti i danger dovevano essere messi mettiamola così però quindi in una loro possibile reprint nei set che usciranno a gennaio febbraio e durante tutto l'anno detto questo ragazzi vi ringrazio come sempre di aver visto il video fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate e se lo acquisterete per montarvi il mazzo o meno detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo questo mercoledì sempre qua con il postcard ciao a tutti ciao ciao